Dalla violenza sugli anziani alla violenza sulle donne, un nuovo progetto a Firenze. Chiara Valentini. Si chiama Tu da che parte stai? Hashtag è una campagna di sensibilizzazione che Artemisia, un centro antiviolenza sulle donne ma anche sui minori, lancia insieme a Toscana Aeroporti e anche all'associazione FLO. Si parte da questa spilla? Si parte da questa spilla perché è un po' uno stimolo rispetto alla posizione che prendiamo nel linguaggio che si usa tutti i giorni nelle relazioni fra uomini e donne. Per cui l'importanza di come ci relazioniamo, di come ci comunichiamo rispetto al creare quel terreno dove poi tutta una serie di atti di violenza possono essere invisibili. fino a che poi nelle situazioni eclatanti la vediamo e la riconosciamo. Però la violenza è anche l'incapacità poi di comunicare, l'incapacità di avere una cultura del rispetto fra i sessi. Per cui la cosa bella credo poi di questo stimolo che stiamo cercando di dare è la cooperazione con tutta una serie di persone diverse, di provenienze diverse che all'interno della comunità si impegnano rispetto a questa campagna. Sto parlando di Toscana Aeroporti, Fin Domestic, General Electric, Coplat, Arci e poi tutta una serie anche di persone, di privati che comunque hanno aderito a questa campagna testimoniando l'impegno della comunità rispetto a un cambiamento culturale.